Sono Rosario Livatino, sono un magistrato, condanno la mafia. Sono Silvano Franzolin, sono un carabiniere, combatto la mafia. Sono Cristina Pavesi, sono una studentessa, cosa c'entro io con la mafia? Grazie a tutti. Cos'è per te la mafia? Eh, un male difficile da estirpare, assolutamente. Se io ti dico mafia, tu che cosa mi rispondi? Corruzione. Se io ti dico mafia, tu che cosa mi rispondi? È la seconda opportunità che l'ho di dallo Stato, per un ragazzo mistrato. Se io ti dico mafia, tu che cosa mi rispondi? Contrafazione. Se io ti dico mafia, tu che cosa mi dici? Droga. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.